buongiorno a tutti mitici pellegrinaggio opzioni extra blasphemous andiamo a provare questo gioco che ho trovato nel playstation plus premium non è solo a sorgere ma i nostri peccati anonimus ci sta ci sta amici partiamo bene o non benissimo se non mi è la colpa io ti invoco ma che il mio petto partisca le pene del troppo veloce oggetto castigo faccio in profondi conficca l'improfonità aia da forma la mia colpa ancora una volta aia aia poverina e così si scoppa pecchimento in luce tutti gli altri dovi dell'animo si sono manifestati in maniera palese e tangibile in ogni dove e in ognuno di noi a volte sotto forma di benedizione e grazia altri sotto forma di punizione e corruzione quella volontà divina sia e al contrattempo crudele con tempo che non abbiano abbiamo potuto ma mai potremmo svelare è stata chiamata il miracolo un miracolo un miracolo un miracolo col la s ahahah dei miracolo col la s cominciamo Dorme sui cadaveri L1 Ok L1 Ha le due fialette Perfetto Quadrato X Ah, x quadrato, basta Finalmente poi si sbloccheranno Allora, una x sola X quadrato Questo è il tutorial Ok, in giù Perché credo che È un po' altino E la vita se ne va Ah, ok R2 Ma perché fanno tutti i cosi così? Quelli chiaramente sono giochi in triangolo Checkpoints Dove è capire I mostri Adesso arriva di qua Bello Subito un bel boss Allora Allora, aspetta Facciamo quindi E questa l'ho presa, l'ho presa, l'ho presa E qui è un po' altino E qui è un po' a eterno Ci sta Spudelito tali Che spudellamento Che schifo Che schifo Che schifo Che schifo Che schifo Che schifo E effettivamente Ok Hai capito La santa via Il cuore colmo romantico Penitente Le pene nel frattolo maggiore Sono ormai terminate Io sono Deogracias Testimone narratore Del miracolo Ciò che cercate È la colla Della figliazione Allora E questo qui Ok Si trovi oltre la mora Quello che so per certo Invece la seconda regola È necessario Compere tre Umiliazioni Per poter accedere Ciò che nascondono Una deve essere eseguita Altra montagna Tra i suoi colori neri Il ghiaccio Un'altra Buia chiesa Sepolta E l'ultima Il sentiero Colpito di lamenti Prendete questa spina E posizionate Sull'essere La vostra spada Quando sarà il momento L'arma in mano Potete ferire Stando una Ok Perché numerose Nuove spine Saranno germogliate Ora dire Che sapete Il miracolo Sente Ok Acquisito Acquisito una spina Ci sta Serve la chiave Ah ok Per Per Alla fine della fiera È così E qua È il check point Ok Allora Qui abbiamo questo Accessibilità Video Allora ragazzi Io questo L'ho fatto Un breve video Ma proprio breve 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 Per farvi vedere Questo gioco Fichissimo Poi lo continueremo Sicuramente insieme O in live O via video Su youtube Mi raccomando di seguire Il mio canale youtube Il mio canale twitch Per le live fichissime Commentate Mi piacere Se vi piacciono i miei video E ci vediamo Ci vediamo in live Sempre Tutti i giorni Alle ore 21 Invece i video Ne caricherò Sia quelli delle live E tantissimi altri Di carico Quindi state A vedere il canale Ci sono anche Le playlist Per giochi singoli E metto tutto sotto Playlist E seguito Il mio canale facebook Instagram Twitter Twitter Wechat Che non la uso mai E discount Ok ragazzi Quindi trovate tutti i link Poi dopo Ogni tanto li metto Nelle descrizioni Ciao a tutti ragazzi Alla prossima Alla prossima di questo gioco Questo è solo un intro Per farvi vedere Com'è il gioco Se volete che continuo Comunque A parte che continuo lo stesso Però se volete che continuo Scrivetelo nei commenti Ciao amici Ciao a tutti Ciao a tutti